Il cinema parte innanzitutto con una proposta per il Natale, quella che solitamente viene detta un po' la controprogrammazione, soltanto che questa volta la controprogrammazione è una controprogrammazione di grandi autori, nel senso una programmazione autoriale del ritorno del regista di culto Jim Jarmusch, con un film meraviglioso, poetico, il cui protagonista è Adam Driver, che in realtà ad oggi ha rivestito altre vesti e che comunque sarà anche protagonista del film di Scorsese, Silence. Patterson, questo è il titolo, uscirà il 29 dicembre, una data molto particolare ma che abbiamo studiato con grande attenzione e quindi credo che ci regalerà delle grandi sorprese anche in termini di riscontro di box office. Patterson, oltre ad essere una cittadina, è anche il nome appunto di questo personaggio, un personaggio dalla vita apparentemente ordinaria, ma che in realtà riesce a trovare la poesia nei fatti quotidiani, quindi nella vita quotidiana, con sua moglie, nel rapporto appunto che ha con questa bellissima moglie, un po' artista, un po' rock così, nel rapporto che ha con il suo cane, un cane molto particolare, che tra l'altro ha vinto anche la Palm Dog a Cannes. Il film appunto è stato in concorso a Cannes, dove ha ottenuto un grandissimo riscontro, sia di pubblico ma soprattutto di critica, è stato veramente usannato dalla critica come film, tanto è il vero che lo davano come probabile vincitore e poi dopo la Palma d'Oro è stata soffiata da un altro nostro film, quindi insomma siamo molto fieri perché io, Daniel Blake, ha vinto la Palma d'Oro ed è stato un grande successo che ancora tutt'oggi è in sala e continua la sua scesa. A seguire ci sarà un altro film in concorso a Cannes, tra l'altro ha ottenuto, ha conseguito il premio Fipresci, il titolo originale era Tony Herman, il titolo che noi abbiamo proposto e che proponiamo è Vi presento Tony Herman, film di Marenade, il rapporto complicato, molto complicato tra padre e figlia, che però viene trattato in chiave assolutamente commedia, quindi non è un film triste, è un film sentimentale, è un film tenero di tutto ciò che si inventa un padre, cioè un personaggio, appunto Tony Herman, per riavvicinarsi alla figlia e per far sì che questa donna assolutamente dedita soltanto al lavoro, agli affari, che non ha più una vita sua, non sia completamente spersonalizzata, possa invece ritrovare la felicità ed essere felice. Tony Herman verrà proposto come uscita, come release italiana, il 23 febbraio, quindi proprio così, nel rush finale, prima dell'Oscar, a seguire un altro film meraviglioso, Loving, una storia vera, una storia vera ambientata negli anni 50 di questi due coniugi, Richard e Mildred Loving, che affrontarono una battaglia legale, una battaglia contro lo Stato, quindi questa è una cosa che ha cambiato la costituzione dell'epoca, quindi è una storia veramente molto molto emozionante. I matrimoni a quell'epoca, i matrimoni multirazziali, erano vietati, questa appunto è la storia dei due coniugi molto semplici, persone molto semplici che in realtà volevano vivere semplicemente il loro rapporto di coppia e la loro felicità, ai quali viene impedito inizialmente, quindi loro decidono di non accettare questa situazione, di rivolgersi per cui alla Corte Suprema, quindi di affrontare una battaglia legale molto importante, che ha cambiato la storia, però il messaggio di questo film, quello che noi vogliamo trasmettere un po', anche per non ghettizzarlo, è quello dell'amore, dell'amore universale, della libertà di scegliere e chiamare, indipendentemente insomma da chi sia, e quindi della libertà di poter vivere il proprio amore. Poi a seguire ci sono due film che probabilmente andranno a Berlino, uno è Un Colossal, un film di grandi effetti che abbiamo presentato oggi infatti come promo, perché purtroppo non abbiamo ancora i materiali per poter realizzare un trailer, è La fine di un impero, è la storia della partizione dell'India e non solo, quindi è ambientato in un palazzo del vicere, quindi insomma appunto grandi scenografie, grandi fotografie, un film veramente un po' monumentale, un film epico, dove accanto alla storia, la storia appunto di quella di quando fu sancita la partizione dell'India, ci sono poi tutte le storie dei diversi piani di questo palazzo, come se fossero diversi strati appunto, perché vivevano diverse etnie, anche indiane, oltre agli inglesi, quindi anche qui si parla di emozioni, di emozioni molto forti. Altro film che andrà a Berlino è un film di Aki Kaurismaki, The Other Side of Hope, anche qui grandi storie, grandi sentimenti, un rifugiato siriano e un commerciante, due destini apparentemente tristi, si incontrano e da lì nascono delle diverse prospettive di vita e di sentimento, quindi questa sarà una proposta penso che dovrebbe essere fine marzo, una proposta per il pubblico di fine marzo. Poi un film che come ha detto Valerio prima, mentre ha presentato il promo, io amo definire una wedding comedy, una commedia che spero si sia capita già dal trailer, ma che comunque poi faremo capire ancora meglio, molto carina, una ragazza di religione ebraica decide di sposarsi, decide di sposarsi in un determinato periodo, quello dell'annucca, è molto religiosa, estremamente religiosa, ha molta fede, e decide che quindi lei ha la casa, ha prenotato il ricevimento e Dio le deve trovare soltanto un marito. E alla fine quindi ci sarà una sorpresa se poi lei questo marito lo trova o non lo trova, e quindi tutto il film si scorre un po' nei rapporti di questi incontri con questi ragazzi, insomma, che lei vorrebbe come fidanzati, poi in realtà la cosa non va avanti, e sui rapporti con la sorella, la mamma, è veramente una commedia deliziosa. A seguire ci sarà un altro film molto particolare, di, diciamo, completamente di tematica diversa, ambientato nella Polonia del Solidarnosc, quindi dal 1990, Quattro donne, il titolo è Quattro donne e il desiderio, il titolo originale era United States of Love, che è il premio della sceneggiatura a Berlino, di Thomas Wasiliewski, definito da molti come l'allievo di Kieslowski, queste quattro donne che hanno questi amori, l'amore irraggiungibile, l'amore ossessivo, insomma, questo desiderio non solo di amare, ma anche di emanciparsi da quello che era la situazione sociale dell'epoca. E questo è un prodotto che distribuiremo probabilmente a metà maggio. Poi arriviamo a delle anticipazioni, anticipazioni, allora la prima è a How to Talk Together a Parties, una commedia punk, quindi sarebbe il manuale un po' del punk innamorato, Londra degli anni settanta, c'è una originalissima e divertentissima Nicole Kidman, Elle Fanning, Ruth Wilson, quindi insomma un cast importante al femminile per un film assolutamente eccentrico, stralunato, che probabilmente andrà al Sundance. E poi il film di Michael Haneke, Happy End, con una straordinaria, devo dire, Isabel Appert, con Jean-Louis Tritignan e Kassovitz, Mattia Kassovitz, parla del perbenismo e dell'egoismo di una famiglia dell'alta borghesia sullo sfondo di Calais che è anche un luogo di transito di rifugiati, quindi di questa scarsa attenzione che questa famiglia ha nei confronti della realtà e quindi di quello che accadrà invece che la porterà a confrontarsi appunto con quello che è la realtà invece della vita quotidiana. Poi per ultimo abbiamo questa storia molto bella di Azanavisius, che potrei sintetizzare come l'abbiamo un po' sintetizzata già, quindi il 68, Jean-Louis Godard e Jean-Louis Godard insolito, quindi visto dagli occhi di sua moglie Anne. Quindi, come posso dire, questi sono i nostri prodotti fino a giugno del 2017, in realtà ci sono ben altre cose che già sono in lavorazione, altre proposte che abbiamo, quindi un listino di una grandissima continuità, grandi autori, grandi titoli e come dico io sempre, perché io sono assolutamente convinta che Valerio De Paulis sia uno dei più bravi, se non il più bravo, quindi grande Valerio De Paulis.